Allora, buongiorno a tutti. Oggi diamo inizio in collaborazione con Dintec, il Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, a un ciclo di vari webinar informativi sulla transizione energetica e sulle CER. Prima di iniziare le attività passo la parola per i saluti istituzionali al nostro segretario generale, il dottor Marco Casarino. Buongiorno a tutti. Ringrazio intanto Dintec della disponibilità a partecipare e a realizzare con noi, punto impresa digitale, Camera di Commercio Riviere di Liguria, questa iniziativa che è rivolta sia al mondo delle imprese sia anche agli enti territoriali, perché stiamo parlando di un'animazione relativa alle CER che riteniamo essere una cosa molto importante per lo sviluppo della politica energetica in generale del nostro paese e del nostro territorio in particolare. Mi fa piacere, ho chiesto di introdurre io per dare il senso e il segno dell'importanza che Camera di Commercio attribuisce alle CER. e anche per segnalare che questo interesse lo abbiamo rilevato sia tra le aziende che tra gli enti locali. Mi spiego. In previsione della riunione dell'incontro di approfondimento del seminario di oggi, gli uffici della Camera hanno realizzato un sondaggio, hanno chiesto ai territori delle tre province di riferimento, l'imperio, il Savono, la Spezza e i comuni, se vi era un interesse a partecipare e cosa avessero già sviluppato in termini di progettazione relativamente al tema. Allora, qui siamo in una, se volessimo dare una rappresentazione grafica del livello di interesse, in una tipica gaussiana, no? Sapete, stiamo ragionando di una campana che ha due lati, diciamo piccoli, e un corpo centrale dove c'è la massima intensità. Bene, le due ali riguardano sia da un lato quelli che non hanno alcun interesse e dall'altro quelli che hanno già cominciato a fare qualcosa. Ma il corpo centrale è costituito nella maggioranza, l'80%, 90% degli enti che sono stati intervistati, da enti che hanno manifestato l'interesse, ma non hanno ancora iniziato a svolgere delle attività. Ecco, penso che un'iniziativa come quella di oggi possa essere utile proprio per coloro che hanno manifestato interesse e che non sanno ancora come realizzare o che vogliono sapere e vedere dall'esperienza di altri per poter a loro volta intraprendere un percorso. Tra l'altro siamo alla vigilia dell'emanazione definitiva dei rifetti attuativi, quindi dovremmo avere anche, a breve, un quadro di riferimento normativo e di incentivazione per questo tipo di attività molto più preciso e che potrà, penso, dare uno sviluppo e un incremento ancora più significativo. Bene, ho detto quello che mi sembrava rappresentarsi, rappresentarsi quello che il tipo di approccio che Camera di Commercio Riviere vuole dare a questa iniziativa, anticipando già fin d'ora la massima disponibilità nei confronti di tutti, enti locali, imprese, associazioni, per informazione, partecipazione, sostegno a tutte le iniziative che potessero andare per la costituzione e rafforzamento delle CER nell'ambito del territorio delle nostre tre province. Buon lavoro, grazie ai relatori, con molto interesse vi invito ad ascoltare. Grazie mille, grazie. Prima di passare la parola ai relatori, volevo un attimo ricordare quello che sarà il percorso che faremo in questo periodo. Allora, come ha già detto il nostro segretario, oggi diamo il via ad una serie di appuntamenti. Avremo un ciclo di tre webinar informativi, ai quali saranno abbinati ognuno dei deschi informativi. Ad esempio, al webinar di oggi abbiamo già fissato un desk informativo per venerdì 13 di ottobre. Pertanto, a seguito di quello che verrà detto durante questa formazione, chi avrà il piacere di rivolgere e parlare direttamente con i relatori può iscriversi al desk fornendo dei quesiti ovviamente inerenti alle attività che verranno svolte oggi. A questo ciclo poi di desk e di webinar forniremo a breve degli easy okay che hanno l'obiettivo di informare le imprese, le associazioni, i comuni, sulle possibili configurazioni che possano assumere le certe ritoriali. Infine, a seguito di tutte queste attività, pensiamo, da inizio anno, l'obiettivo è quello di creare un tavolo di lavoro territoriale al quale possano partecipare soprattutto le imprese, le associazioni interessate ovviamente a dare il mio adelecere. e non voglio rubare troppo tempo ai relatori e ricordo solo che il programma della giornata di oggi sarà così suddiviso. Avremo inizialmente la dottoressa Anna Maria Marconi che è la responsabile del progetto transizione energetica di Dintec che ci parlerà della transizione energetica, le caratteristiche, le implementazioni, le opportunità per le imprese nell'ambito del progetto del sistema camerale. Seguirà poi l'avvocato Samantha Battiston che ci illustrerà invece le comunità energetiche rinnovabili, in particolare gli elementi essenziali da considerare per poterle realizzare. Al termine poi di questo percorso avremo anche due ospiti avremo il dottore Marino Berton, rappresentante della CIA d'Imperia e il dottore Stefano Damonte, sindaco del comune di Villa Faraldi. Entrambi ci porteranno una loro testimonianza, ci illustreranno lo stato dell'arte e dei servizi disponibili per le imprese in alcuni territori della nostra provincia. Non voglio rubare ulteriore tempo perché gli argomenti sono tanti e passo la parola ad Anna Maria. Buon webinar a tutti, a dopo. Sì, grazie dottoressa Cristolo, benvenuta a tutti e grazie soprattutto a chi si è collegato e ci sta dedicando questo tempo per conoscere un po' di più quali sono le progettualità del sistema camerale sulla transizione energetica poi con una focalizzazione sulle comunità energetiche rinnovabili. Io utilizzerò delle slide per dare un po' qual è il contesto delle attività che stiamo portando avanti insieme alla Camera di Rivera di Liguria. Chiedo soltanto, conferma che le slide si visualizzino correttamente. Alba, riuscite a vederle? Sì, Anna Maria. Ok, perfetto. Bene, allora il progetto che stiamo realizzando con Union Camera e poi con una molteplicità di camere di commercio su tutto il territorio nazionale ha la finalità di presentare la transizione energetica lato opportunità per le imprese e l'obiettivo di questa mia breve presentazione è proprio quello di voler dare il contesto di questa iniziativa e del perché il sistema camerale già dal 2021 ha sposato questa tematica intercettandola come un'opportunità per le imprese in particolare per le piccole e medie imprese. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da un dato di fatto che vedete qui rappresentato sulla slide lato sinistro cioè il fatto che l'Italia produce soltanto il 29,5% dell'energia che consuma rispetto ad una media europea che va quasi al 40%. Questi sono dati, come vedete, del 2019 ma in realtà poi negli anni successivi sono confermati tra l'altro l'ultimo rapporto del Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica ha rilevato l'ultimo rapporto pubblicato la settimana scorsa e relativo all'annualità 2022 un peggioramento di questa autonomia energetica pari all'8%. Questo significa che comunque questo dato che vediamo qui rappresentato risulta ulteriormente penalizzante per l'Italia ma penalizzante sotto una moltiplicità di punti di vista uno perché ci pone comunque in una situazione di difficoltà perché ovviamente noi non riusciamo a presedere la necessità dell'approvvigionamento energetico ma dall'altro anche ci colloca in una situazione di difficoltà laddove gli obiettivi anche che l'Unione Europea ci pone nella lotta al cambiamento climatico. Una possibile risposta a questa situazione di difficoltà quindi l'obiettivo di aumentare la nostra produzione interna di energia elettrica è proprio data può essere data diciamo più correttamente dalle comunità energetiche rinnovabili che sono un insieme di utenti che si mettono insieme per produrre, consumare e aggiungo anche autoconsumare energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Chi sono i soggetti che possono costituire la comunità energetica rinnovabile? Di questo ne parlerà ampiamente l'avvocato Battiston ma in estrema sintesi non sono persone fisiche piccole e medie imprese autorità locali e enti territoriali che costituiscono insieme un soggetto giuridico regolato ovviamente da uno statuto in cui vengono non solo definite le regole di ingresso e di uscita scusate chiedo se potete disattivare il microfono grazie vengono diciamo regolamentate tutte le condizioni di entrata e di uscita ma quello che mi preme più evidenziare è che la finalità di una comunità energetica rinnovabile non è una finalità prettamente economica anzi non solo ma diciamo la prima il primo obiettivo sono i propri benefici economici e sociali l'attività del sistema camerale quindi delle Camere di Commercio è partita nel 2021 quando grazie al decreto legge 162 del 2019 il decreto mille proroghe è stata recepita in Italia la direttiva Red 2 direi anche anzitempo rispetto ai tempi previsti e proprio in questo contesto Union Camera e le Camere di Commercio hanno iniziato, hanno dato avvia ad un roadshow informativo che al tempo è stato prettamente in modalità webinar visto la situazione ancora diciamo di difficoltà collegata all'emergenza Covid ma comunque già nel 2021 le Camere hanno già partito con delle azioni infoformative sul territorio proprio per far conoscere le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo collettivo in questa timeline temporale vediamo che ci sono stati diversi provvedimenti che si sono succeduti nel tempo quello che a noi interessa maggiormente poi è la legge 199 del 2021 che ha definitivamente disciplinato comunità energetiche rinnovabili gruppi di autoconsumo collettivo che però poi rimanda ad un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che è ancora in attesa di pubblicazione questo elemento sicuramente costituisce un po' un elemento di debolezza per favorire la nascita e lo sviluppo di CER sul territorio perché siamo ancora in un sistema che possiamo definire transitorio il passaggio dalla normativa appunto ante legge 199 del 2021 a questa diciamo definitiva consentirà alle imprese di avere un quadro più a parte ecco ovviamente definitivo ma soprattutto delle condizioni di maggior favore rispetto a quanto attualmente previsto perché c'è un aumento della dimensione massima degli impianti che passa da 200 kilowatt a un megawatt il perimetro all'interno del quale può essere costituita la CER è sicuramente più ampio si passa da una cabina secondaria ad una cabina primaria e anche il sistema degli incentivi viene rivisto con un range di contributi che vanno da 60-120 euro ovviamente anche questi diciamo da definire proprio a seguito della pubblicazione del decreto del Mase che come dicevo deve ancora avvenire e i vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili ma io direi in generale comunque della transizione energetica sono molteplici qui noi ne abbiamo riportati soltanto 6 che sono a nostro parere quelli più rilevanti innanzitutto ovviamente un aumento dell'autonomia energetica basata però su fonti energetiche rinnovabili quindi che sono inesauribili in natura e soprattutto non soggette a mutamento di costo, di prezzo la riduzione delle emissioni di CO2 anche questo elemento fondamentale richiesto dalla normativa comunitaria un maggiore efficientamento risparmio energetico perché come vedremo prima di aderire ad una comunità energetica rinnovabile è necessario fare una valutazione dei propri fabbisogni all'interno di ciascuna impresa il risvolto sociale è anch'esso estremamente importante come quello ambientale e in effetti devono essere recepiti tra l'altro all'interno dello statuto di una share semplifica i problemi autorizzativi perché ovviamente sono delle iniziative che partono dal territorio e quindi hanno un effetto meno dirompente dal punto di vista anche dell'accettazione sociale da ultimo ma non per importanza perché favorisce digitalizzazione e l'utilizzo di tecnologie 4.0 basti pensare per esempio agli smart meter parliamo di comunità energetiche al momento in base ai dati che noi abbiamo a disposizione dell'RSE in Italia sono soltanto 35 quindi sicuramente l'incertezza normativa rappresenta un ostacolo alla maggiore diffusione qualche settimana fa il ministro Pichetto Fratin aveva dichiarato che diciamo si sarebbe aspettato la nascita di circa 15.000 share sul territorio nel periodo diciamo di vigenza del piano nazionale di ripresa e resilienza perché come vedremo diciamo mette a disposizione 2,2 miliardi di euro proprio per la costituzione di share a determinate condizioni altri ostacoli appunto per la loro diciamo diffusione sono sicuramente con tema di carattere culturale quindi una percezione anche ancora poco come dire condivisa no? sulle problematiche ambientali la parte diciamo di normativa tecnica perché come detto ancora deve essere pubblicato il decreto del MASE la difficoltà di coinvolgimento dei cittadini ma anche delle istituzioni locali perché ovviamente la costituzione di una share presenta comunque degli elementi diciamo di punti di attenzione più che criticità direi e poi anche la attualmente la difficoltà anche di partecipazione dei player energetici che sicuramente in realtà potrebbero essere un valore aggiunto all'interno per diciamo favorire appunto la diffusione della nascita di comunità energetiche abbiamo visto circa 35 la maggior parte sono dislocate nel nord in Piemonte è nata la prima comunità energetica rinnovabile a Magliano Alpi e la maggior parte sono ovviamente si fanno riferimento a impianti di fotovoltaici e nella maggior parte dei casi i soggetti promotori sono enti pubblici e per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche dicevamo smart meter o comunque dotazioni diciamo intelligenti che consentano un monitoraggio della produzione e del consumo per quanto riguarda le risorse come dicevo prima il piano nazionale di ripresa e resilienza in questa torta che sicuramente conoscerete riserva la maggior parte delle risorse alla missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica all'interno di questa missione 2 noi troviamo la linea di investimento 1.2 che è proprio dedicata alle comunità energetiche riservando 2,2 miliardi di euro ma solo comunità energetiche nell'ambito di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti che in Italia rappresentano circa il 70% dei comuni con una criticità però abbastanza importante cioè comunque sono comuni piccoli e quindi la difficoltà anche per loro di attivarsi diciamo in questa direzione poi le testimonianze ecco dei comuni che seguiranno dopo dei mesi sicuramente aggiungeranno ecco daranno del valore aggiunto a questo a questo punto in particolare altri due elementi a mio parere rilevanti sono innanzitutto il fatto che diciamo la potenza massima degli impianti di energia rinnovabile è maggiore per le imprese agricole e poi il decreto legge recovery del 152 del 2021 definisce anzi individua il sistema camerale quindi le camere di commercio come i soggetti attuatori del PNRR quindi a maggior ragione diciamo l'importanza di far emergere appunto il ruolo e la competenza del sistema camerale sulle tematiche collegate alle CER ma in generale alla transizione energetica i passi per costituire una CER noi qui ne abbiamo individuati sei ma io mi focalizzerei principalmente sui primi tre perché sono quelli un po' di start up della CER che diciamo necessitano diciamo sono sicuramente le attività più onerose in termini di progettazione e di esecuzione quindi innanzitutto una verifica preliminare di fattibilità degli impianti una prima individuazione dei possibili partecipanti ad una CER la necessità di fare un'analisi tecnica economica preliminare la definizione del modello di business della forma giuridica e poi correttamente l'adesione dei partecipanti perché ovviamente una CER può essere costituita da due o più soggetti e una CER è di successo tra virgolette quando essa è ben bilanciata perché ovviamente l'incentivo si ottiene dalla quota di autoconsumo quindi l'energia deve essere prodotta ed autoconsumata va da sé che l'impianto fotovoltaico produce sempre energia ovviamente nella parte diciamo diurna e quindi se viene costituito ad esempio da un'impresa che ha un solo turno produttivo lavora da lunedì al venerdì è importante diciamo focalizzare sul fatto che questa energia poteva essere comunque consumata anche nel momento di chiusura dell'impresa oppure durante le festività in cui durante scusate la pausa estiva che magari l'impresa chiude oppure il sabato e la domenica quindi è importante un bilanciamento corretto dei membri di una CER qui è una cartina ecco presa dal dal sito del GSE queste sono diciamo la configurazione della camera di commercio di Rivera di Liguria è un po' particolare perché riguarda tutta la regione ad eccezione del di Genova per cui io adesso ho preso soltanto diciamo la parte ad est e qui con tutte queste diciamo questi riguadri con i codici alfanumerici voi vedete le cabine primarie queste le ancora è disponibile sul sito del GSE e questo già sono 2107 cabine primarie relative a 25 distributori all'interno di ciascun perimetro che voi trovate evidenziato con questo codice alfanumerico è possibile costituire una CER e quello è il perimetro entro cui può essere costituita una CER per cui diciamo il limite ecco dell'estensione ma come vedete insomma sono territori abbastanza estesi in questo caso per cui diciamo c'è ampio margine di manovra quali sono invece i punti di attenzione delle imprese un po' ne ho parlato anche nelle slide precedenti abbiamo visto comunque il fatto il quadro normativo ancora in fieri ma anche la difficoltà di contabilizzare correttamente di valutare correttamente diciamo il ritorno economico che seppure non è uno dei motivi il motivo principale per cui viene costituita una CER sicuramente è un punto d'attenzione per un'impresa la parte di incentivi e finanziamenti le risorse del PNRR sono rivolte ai comuni al di sotto di 5.000 abitanti ci sono i bandi FES ma non sono attualmente attivi ci sono anche delle risorse in alcuni casi del sistema camerale che promuovono la transizione energetica e in alcuni casi come nel caso della regione Liguria c'è anche un bando regionale che poi vedrete successivamente un'ulteriore difficoltà a nostro parere anche sono gli aspetti organizzativi perché ovviamente una CER è un contratto tra più soggetti quindi anche la difficoltà non solo di gestione ma anche di coordinamento di entrate e di uscita insomma anche la diversa configurazione dei vari soggetti sicuramente è un punto d'attenzione da considerare da ultimo i servizi che noi mettiamo a disposizione diciamo delle imprese per il tram e il sistema camerale sulla tematica della transizione energetica momenti informativi e formativi come quello che stiamo facendo in questo momento con le imprese in cui si parla non solo della transizione energetica diciamo in generale ma con delle verticalizzazioni tematiche perché quando si parla di transizione energetica ma anche di comunità energetica e rinnovabili i profili che possono essere approfonditi sono molteplici c'è l'aspetto energetico di progettazione e realizzazione c'è un progetto c'è una verticalizzazione di carattere giuridico come vedremo oggi sul contratto per esempio di CER c'è una parte di incentivi che sono collegati alla transizione energetica a parte ecco il PNRR però vediamo anche tutta la parte diciamo di transizione green collegata al credito d'imposta 4.0 oppure agli incentivi per efficientamento risparmio energetico ora in questi giorni è aperto il bando agricoltaico quindi diciamo questi momenti informativi sono proprio dei momenti ecco che serve per fare degli approfondimenti su queste diciamo verticalità che caratterizzano diciamo la materia i desk informativi con le imprese quindi momenti distretti di confronto tra imprese e l'esperto su prenotazione il sostegno in molti casi dicevamo in questo caso ecco per la regione c'è un bando regionale ma ci sono anche i contributi delle camere di commercio per la transizione green oppure anche per la transizione energetica quindi la possibilità di pagare per esempio uno studio di fattibilità per una CER la possibilità di fare tutte le azioni propedeutiche per esempio per una certificazione 5001 o 5005 che sono collegate alla gestione dell'energia la disponibilità per esempio di avvalersi di un edge o di energy manager e da ultimo i tavoli di progettazione che in una sorta diciamo di funnel di imbuto delle attività è l'ultima fase diciamo di questa progettualità che prevede di mettersi in tutto intorno a un tavolo quindi soggetti che sono più vicini alla fase finale di costituzione di zona CER e fare in modo che si avvii questo progetto di diciamo di esecuzione ecco ovviamente questa è la parte diciamo che si a cui si arriverà ecco alla fine del percorso che abbiamo avviato con la camera di commercio io ho terminato e vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola all'avvocato Battiston grazie grazie mille buongiorno a tutti condivido anche io la mia presentazione eccoci qua ecco grazie della dell'introduzione che appunto la dottoressa Marconi ha fornito un quadro ovviamente di una materia che è molto complessa però assolutamente già esaustivo appunto di quelle che sono le tematiche che vanno affrontate oggi diciamo così facciamo un approfondimento da un punto di vista giuridico e c'è sicuramente chi di voi ha già affrontato ha già letto appunto molto appunto sulla materia quindi magari è una ripetizione ma è importante anche capire da dove partiamo perché poi il quadro delle direttive comunitarie di tutto quello che è il pacchetto che è stato messo appunto in moto per poter raggiungere quelli che sono ambiziosi appunto obiettivi euro comunitari vincolerà appunto anche le nostre appunto azioni future perché poi abbiamo un'emergenza un'urgenza che è proprio quella anche di poter poi mettere in campo nuove iniziative per spendere dei soldi che la comunità europea ci dà appunto proprio per l'attuazione poi appunto degli obiettivi in termini di riduzione dell'utilizzo appunto delle fonti fossili e di incentivazione invece all'utilizzo delle fonti appunto energetiche di produzione appunto dell'energia le direttive di cui noi sentiamo sempre parlare in realtà che interessano le comunità energetiche sono due perché di comunità energetica noi oggi in questi periodi ovviamente tratteremo sempre appunto della comunità energetica da fonti rinnovabili ma in realtà esiste anche un altro tipo di comunità energetica che è quella della comunità energetica dei cittadini che è stata appunto inserita e definita nella direttiva appunto 944 dell'AC 2019 la famosa direttiva IEM che è quella appunto di creazione del mercato interno dell'energia elettrica quindi è un altro tipo appunto di comunità energetica perché è una comunità energetica che può utilizzare proprio solo energia elettrica ma può utilizzare anche fonti non rinnovabili non è ovviamente appunto oggi oggetto di trattazione perché quello che viene incentivata è la creazione appunto della comunità energetica rinnovabile che per la prima volta è stata introdotta come definizione come perimetro applicativo dalla direttiva RED2 la RED2 infatti definisce e poi vedremo come questo è stato trasfuso appunto nel nostro ordinamento la comunità di energia rinnovabile come un soggetto giuridico il concetto europeo quindi è molto più ampio rispetto a quello che noi siamo abituati appunto a trattare all'interno del nostro ordinamento e il nostro punto legislatore ora vedremo come ha mantenuto questa definizione quindi vi già focalizzo appunto l'attenzione richiamo la vostra attenzione proprio a questo concetto perché poi vedremo questo che cosa che appunto poi comporta dal punto di vista pratico quando noi dobbiamo andare a identificare appunto i soggetti che partecipano alla nostra comunità energetica rinnovabile e soprattutto a scegliere la forma giuridica più appropriata come vi è stato già anticipato la comunità energetica rinnovabile è stata inizialmente appunto con prima applicazione sperimentale oggetto di attuazione attraverso il decreto legge 162 tel 2019 che ha consentito l'attivazione appunto delle prime quelle che conosciamo adesso che sono quelle accreditate appunto al GSE quindi poche 35 appunto formalmente esistenti diverse iniziative che sono state messe in campo sono ancora lì ferme appunto perché in realtà non rispettano e questa è l'importanza anche di porre attenzione a quello che si fa quindi a tutto il quadro perché poi se si va al GSE per accreditamento GSE poi respinge la richiesta oppure la lascia lì sul tavolo che non è GSE che ritarda ma siamo noi che non abbiamo fatto le cose appunto correttamente e quindi ha dato questo decreto la possibilità di creare comunità energetiche che però hanno un'estensione anche territoriale limitata in quanto appunto caratterizzate dal concetto della prossimità fisica e della possibilità appunto di creare comunità energetiche solo per impianti che siano utenti quindi degli impianti sottesi alla medesima cabina appunto secondaria con il limite di potenza per ciascun impianto all'interno della comunità energetica di 200 kilowattora quindi ovviamente una sperimentazione diciamola così si è cercato di vedere come appunto il mercato avrebbe appunto risposto e questo appunto ha ovviamente anche creato un riflesso sulle prime forme giuridiche delle CER che sono state create e in una configurazione più semplice le primissime nella forma dell'associazione o dell'associazione non riconosciuta ora questi temi li approfondiamo e andiamo a vedere anche i pro e contro delle diverse strutture giuridiche a nostra disposizione tutto questo sistema è stato o quantomeno sarà appunto superato adesso siamo ancora in un periodo appunto transitorio e da lì posso anche giustificare in alcuni casi il perché non si non si attivino nuove comunità energetiche perché poi io stessa appunto quando mi trovo che appunto comunque a dover affrontare i problemi della costituzione del legger noto che questa diciamo incertezza ancora del quadro che il fatto che non sia ancora stato definito porta necessariamente a dei dubbi e quindi appunto a delle paure nell'attivazione appunto le comunità energetiche il che non significa che non possiamo prendere in mano la situazione e cominciare in ogni caso a pensare a strutturare la comunità energetica perché in realtà il quadro è quasi completamente appunto definito innanzitutto il vero recepimento appunto quello più ampio quindi quello che ha esteso il perimetro di operatività dell'ECER è quello appunto del decreto legislativo 199 del 2021 già appunto perfettamente entrato in vigore 15 dicembre ma che ovviamente rimandava poi a tutto un assetto di normativa appunto di carattere appunto secondario per completare quello che era il percorso appunto di attivazione reale appunto nelle nostre comunità energetiche innanzitutto il decreto legislativo 199 del 2021 recepisce integramente la definizione comunitaria delle comunità di energia rinnovabile all'interno dell'articolo 31 e cosa ci dice innanzitutto quali sono i soggetti che possono costituire una comunità energetica rinnovabile ma soprattutto e questo è importantissimo quando andiamo a cercare di identificare il modello giuridico della futura CER quello che può fare e quello che è lo scopo appunto della comunità energetica rinnovabile perché il suo scopo non è quello appunto di lucro e che limita anche poi appunto la partecipazione alla CER di determinati soggetti quelli che hanno come scopo proprio quello appunto di conseguire appunto un utile di impresa dalla produzione appunto dall'emissione in mercato dell'energia prodotta la comunità energetica ha lo scopo in realtà appunto di conseguire dei benefici ambientali e da lì abbiamo appunto in mente quello che vi è stato anche anticipato sugli obiettivi appunto non soltanto appunto declinati a livello europeo e assunti appunto come proprio anche dal nostro Stato dell'Accordo di Parigi ma soprattutto quelli che della la transizione energetica uno dei pilastri fondamentali e anche uno di quelli che occupa maggiori fondi del next appunto generation all'interno del piano nazionale di ripresa e di appunto residenza benefici anche economici perché in realtà poi appunto con il concetto della comunità energetica da fonte rinnovabili si vuole in ogni caso incentivare anche economicamente tant'è che il favor la partecipazione alla comunità energetica è quello delle famiglie con un basso reddito quelle che appunto più vulnerabili e sociali appunto a livello della comunità e che significa anche incentivare scusate per il raggiungimento di questi obiettivi le iniziative direttamente appunto degli enti locali appunto dei soggetti pubblici che si fanno parte attiva nella promozione e nella creazione delle comunità energetiche rinnovabili l'articolo 4 poi vedremo che appunto definisce poi tutto quello che è il sistema dei del sostegno alle comunità energetiche che poi appunto verrà recepito e messo in piena attuazione dal decreto che stiamo tanto aspettando ormai da tempo che è ancora al vaglio appunto della comunità europea e che appunto di fatto poi amplia come abbiamo detto prima e come è stato anticipato il perimetro perché innanzitutto viene superato il concetto dell'utente sotteso alla cabina secondaria ma che appunto si fa riferimento alla cabina appunto primaria e al limite di potenza appunto della singolo impianto e attenzione singolo impianto non significa singola comunità energetica rinnovabile perché la comunità di energia rinnovabile può avere anche più impianti purché appunto di una potenza che sia comunque compresa tra lo zero e il megawatt ovviamente capite che questa estensione anche soltanto avete visto prima la mappa della cabina primaria dà delle potenzialità di estensione appunto alla comunità energetica senza senza togliere il fatto che poi appunto come vi dicevo questo è un limite per singolo impianto e che non significa che non si possano avere più impianti all'interno di una determinata comunità le forme di incentivazione ne abbiamo in parte le avete sentite il piano nazionale di ripresa di residenza destina ben 2,2 miliardi appunto di euro non solo alle comunità energetiche ma anche alle configurazioni dell'autoconsumo collettivo diffuso che comunque è un'altra diciamo branca un altro diciamo settore incentivato che appunto per il raggiungimento degli importanti obiettivi di cui stiamo parlando i fondi del piano nazionale sono ovviamente destinati appunto a territori più piccoli quindi si pensa appunto ai comuni sotto i 5.000 abitanti per incentivare proprio il rilancio appunto e quindi il rafforzamento anche della capacità aggregativa appunto di comuni con meno che hanno meno che dispongono di meno appunto risorse fondamentale per completare il quadro appunto giuridico della costituzione di una comunità energetica è di fatto appunto tutto quello che è il sistema dell'incentivazione il sistema dell'incentivazione contenuto nel appunto decreto del Mase il decreto è stato oggetto prima dell'estate appunto di una consultazione pubblica è stato diciamo così pubblicato un documento che anticipava i contenuti appunto del decreto questo per l'iter obbligatoriamente imposto appunto dalla Unione Europea per poterlo appunto effettivamente emanare e rendere appunto definitivo e poi in base alle osservazioni che sono state rese appunto dalle istituzioni e anche dagli operatori dalle associazioni rappresentative e proprio dagli operatori è stato presentato appunto alla Unione Europea l'Unione Europea lo sta ancora vagliando e qui il ritardo quindi non è nostro questa volta appunto ma dipende appunto dall'impulso dell'Unione Europea perché si sta discutendo su un punto fondamentalmente che è quello del contributo a fondo perduto che è previsto per incentivare le nuove comunità di energia rinnovabile che potrebbe appunto configurare una problematica di aiuti di Stato perché è rivolto direttamente anche di fatto che appunto alle imprese che vengono coinvolte appunto nella implementazione della CER il decreto si fonderà quindi o si fonda comunque su due tipi di incentivazione l'incentivo in tariffa e contributo a fondo perduto che non c'entra con quello che è poi il quanto che appunto di fatto che appunto avanza dell'energia e viene messa appunto e viene pagata appunto al prelievo che appunto quello è un valore che appunto che in ogni caso c'è per tutti gli impianti e che dipende appunto dalla zona di mercato l'incentivo a tariffa è in sostanza se io consumo mentre appunto la mia comunità energetica mentre l'impianto della mia comunità energetica produce allora vengo appunto incentivato non vengo incentivato direttamente io cittadino io impresa che partecipo alla comunità energetica non riceverò direttamente questo incentivo ma l'incentivo va a favore della comunità energetica e poi si ha tutto un sistema di contabilizzazione e di ovviamente la configurazione giuridica porta in sé poi tutto un insieme di valutazioni di gestione appunto della CER per il quale appunto si avrà una redistribuzione di questi vantaggi economici quindi il fatto che la CER non persegua appunto il lucro non significa che non possa appunto quindi redistribuire degli utili cioè delle diciamo ritorni economici ecco proprio per non utilizzare il concetto di utile o di lucro perché è strano il concetto giuridico della CER la tariffa incentivante premiale quindi è riconosciuta essenzialmente appunto a quelli che saranno appunto gli impianti che verranno realizzati quindi da lì che abbiamo ancora il freno il blocco in modo da incentivare gli impianti più piccolini per arrivare poi a scalare rispetto appunto a quelli più di più grosse dimensioni altra incentivazione appunto che si va ad aggiungere è il contributo a fondo perduto che è previsto nella misura del 40% del conto investimento e questa diciamo limite che era che è indicato appunto che sarebbe indicato nel decreto appunto nel MASE è relativo ai comuni sotto i 5.000 abitanti perché si ritiene che appunto comunque si erano utilizzati i fondi proprio del PNRR il contributo a fondo perduto attenzione è cumulabile con incentivo a tariffa quindi capite che appunto una spinta enorme appunto alla creazione appunto delle appunto nuove cer perché abbiamo un limite appunto temporale appunto per l'agevolazione proprio perché è legata agli obiettivi appunto della next generation si ribadisce anche nel decreto MASE la necessità ovviamente della connessione alla appunto cabina appunto primaria e la necessità di verificare che nell'atto costitutivo e nello statuto le finalità della appunto comunità energetica non nascondano appunto un profitto di carattere appunto lucrativo perché poi tutto questo viene vagliato da chi da soggetto competente proprio all'accreditamento quindi alla ok va bene potete ricevere appunto incentivi e appunto contributi che è il GSE tutto questo di fatto però viene completato anche da altre disposizioni che sono contenute appunto in una normativa complementare che quindi roterà intorno appunto al decreto MASE una di queste è già stata emanata la RERA stessa aveva maggiore fiducia nella della promulgazione del decreto del punto MASE ma è stato previsto che il provvedimento cioè il testo integrato dell'autoconsumo diffuso ne avete sentito parlare con l'acronimo che si parla di TIAD è stato emanato con delibera 727 del 27 dicembre 2022 entrerà in realtà appunto in vigore soltanto dopo l'entrata in vigore del decreto del punto MASE quindi era stato previsto che appunto che se il decreto MASE veniva emanato che appunto prolungato prima allora che appunto il TIAD sarebbe stato pienamente efficace da partire dal primo marzo così non è stato e quindi sa che appunto un rinvio anche dell'efficacia del punto TIAD però già il testo integrato dell'autoconsumo diffuso ci dà fondamentalmente il quadro da un punto di vista tecnico ma anche dei suggerimenti dal punto di vista giuridico della configurazione appunto della CER di fatto importante la prima cosa appunto da fare è sicuramente poi quello di individuare adesso appunto lo vedremo le cabine primarie perché il TIAD proprio fa riferimento alla necessità poi che i diversi produttori quindi gestione del mercato energetico mettano a disposizione appunto da mappa ed è di qualche giorno fa appunto la pubblicazione definitiva della mappa appunto che sul sito del punto GSE accanto poi a questo sistema vedremo ulteriormente poi integrato anche dal provvedimento proprio tecnico anche del GSE si affianca la normativa appunto regionale anche le regioni sono da tempo attive nel appunto nel tentativo appunto di incentivare la formazione di comunità energetiche rinnovabili ed incentivare l'autoconsumo appunto diffuso collettivo e di fatto la appunto regione appunto Lecuria aveva già una sua legge regionale la legge 13 del 2020 in cui appunto vedete che faceva riferimento proprio a quelli che erano gli obiettivi che abbiamo visto che vi ho declinato appunto all'inizio e che vedete che sono stati qua direttamente appunto inseriti nell'ambito dell'articolo 1 nelle finalità quindi l'importante appunto obiettivo della neutralità carbone cioè dell'azzeramento totale appunto dell'utilizzo delle fonti fossili che a livello appunto comunitario a livello mondiale appunto con l'accordo di Parigi ci si è posti appunto entro il DEC 2050 e così che appunto la regione Liguria favorisce essenzialmente appunto la creazione delle CER in cui vedete che viene declinato proprio anche qua il concetto appunto di CER costituite al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi appunto derivati e favorire la distribuzione la evoluzione scusate distribuita lo scambio anche l'accumulo perché questo è assolutamente possibile e la cessione di energia perché anche nell'ambito che appunto del funzionamento della CER è comunque possibile che appunto poi la cessione dell'energia al mercato per l'autoconsumo ridurre ecco qui gli obiettivi fondamentali la povertà energetica e sociale perseguire l'indipendenza ed autonomia energetica la legge appunto regionale è molto interessante appunto perché perché di fatto non soltanto da quelle che sono le indicazioni quindi ripete sostanzialmente poi quelle che adesso andiamo un po' a vedere appunto perché dobbiamo tenere presente quando andiamo a costituire da un punto di vista giuridico un AC punto CER ma riconosce vedete anche la possibilità appunto di creare delle sinergie tra appunto quelli che sono gli enti appunto locali e le comunità di riferimento anche proprio appunto per un carattere solidaristico appunto delle punto CER e quindi la regione appunto riconosce eventualmente prevedendo anche forme di appunto premialità quindi mettendo poi metterà in campo anche delle risorse appunto economiche per accompagnare questo appunto percorso proprio che appunto se le CER hanno caratteristiche appunto che sono state indicate poi nella legge la regione poi ha attivato appunto attraverso un provvedimento con la delibera della giunta regionale che è sul seguente quindi nel maggio del 2021 una approvazione di quelle che sono una sorta di linea guida per chi vuole appunto affrontare dal punto di vista pubblico ovviamente dell'ente appunto locale la costituzione di una comunità energetica perché ha inserito ed è questo un'importante diciamo indicazione anche appunto operativa quali sono i criteri appunto per ridigere quindi il bilancio energetico di una futura CER e poi appunto quelli che sono i documenti e gli elementi che devono essere considerati quando appunto si vuole creare il documento strategico di funzionamento della CER non dimentichiamo che le CER hanno una durata comunque che rende appunto anche quel beneficio a livello appunto di comunità che necessariamente appunto è medio-lunga deve essere ammortizzato l'impianto se vengono appunto inseriti dei sistemi di accumulo i costi di realizzazione sono molto superiori quindi una durata ancora più lunga per l'ammottamento e quindi sicuramente una durata anche ventennale nella comunità energetica che quindi potrà avere la necessità di strategicamente implementare appunto nuove nuove attività e stendersi anche appunto aprendo la strada appunto delle forme di collaborazione con altre appunto comunità energetiche e vedete come di fatto appunto la regione incentiva proprio l'iniziativa da parte appunto degli enti appunto locali dicendo cosa l'ente locale si può appunto sicuramente proporre appunto l'istituzione della appunto comunità energetica facendone parte come produttore consumatore quindi quello che noi conosciamo che appunto che sentiamo che appunto parlare appunto il famoso prosumer il soggetto che all'interno della comunità energetica mette anche a disposizione i propri impianti di produzione a beneficio appunto della comunità e che appunto di fatto poi ne trai il vantaggio anche consumando oppure può essere semplicemente un consumatore perché gli impianti sono messi a disposizione dalle imprese appunto dai cittadini appunto che diventano parte attiva quindi diventano loro i prosumer della comunità questo è un ruolo del prosumer è un ruolo che può essere veramente assunto da chiunque purché disponga di spazi e della possibilità appunto di realizzare gli impianti proporre l'istituzione della comunità energetica quindi promuoverla sul suo territorio anche se poi non diventerà parte ritengo che però sarebbe per l'olente locale anche un'occasione persa oppure appunto aderire alla comunità energetica che appunto è già stata costituita quindi questo è un po' il quadro appunto regionale la regione di Uria ci dice cosa fare quali sono i criteri per la redazione del bilancio energetico del CER e quindi indicativamente sull'anno che cosa bisogna tenere conto e questo ovviamente fa parte di tutto quello che vi ho detto essere l'assetto contabile di flussi che girano intorno alla comunità energetica che non è solo quindi scegliere l'operatore o il soggetto che ci costruisce appunto l'impianto ma la comunità energetica ha bisogno di una gestione operativa appunto nel corso del tempo ha bisogno della piattaforma appunto di gestione quindi deve avere a disposizione costante un insieme appunto di importanti dati appunto di flussi che devono continuare appunto ad essere anche monitorati quindi con attenzione perché poi ci possono anche essere delle diciamo bisogno delle necessità di porre dei correttivi quindi modificare qualcosa come abbiamo appunto progettato il nostro impianto e la nostra comunità energetica quindi questo è un po' il suggerimento appunto che vi dà anche la regione Liguria tornando quindi al quadro nazionale appunto abbiamo detto che il primo che cosa fare per iniziare con la creazione appunto di una CER la prima cosa che appunto è sicuramente capire dove sono queste cabine primarie vi ho appunto quindi inserito qua il link appunto al sito della GSE che proprio pochi giorni fa ha messo a disposizione ha completato attraverso la collaborazione con gli operatori appunto del settore il quadro appunto con la mappa interattiva quindi basta inserire appunto il comune e già la mappa si ingrandisce si focalizza appunto indicando poi ve l'aveva mostrata anche la dottoressa Marconi quelli che sono appunto le singole appunto cabine primarie vicine quindi si può capire già come strutturare la appunto comunità energetica ricordo ancora che per adesso possiamo attivarci con la disciplina transitoria spero appunto anch'io come tanti operatori diciamo siamo un po' in frenetica attesa perché abbiamo pronti nel cassetto degli impianti di ben più rilevanti che appunto dimensioni quindi da mettere diciamo in in concreto appunto sulla per poter appunto operare difficoltà anche poi da parte dei soggetti pubblici nel coinvolgere il appunto privato nella diciamo così attuale incertezza di alcuni aspetti e questo sicuramente uno appunto degli aspetti di rallentamento appunto nella creazione delle nuove cer sarà poi necessario appunto avviare un appunto percorso che che di fatto identifichi i soggetti che ne faranno parte perché come abbiamo detto l'ho accennato poi che appunto tecnicamente penso sarà anche oggetto di ulteriori approfondimenti anche magari delle esperienze che vi verranno portate la comunità che appunto è energetica viene incentivata appunto se io che sono appunto membro appunto della comunità consumo appunto mentre il mio appunto impianto appunto produce quindi è ovvio che se ho delle imprese appunto che consumano molta appunto energia dovrò poi capire appunto come questa energia possa andare poi a beneficio del appunto dei privati e quindi la eterogenità dei soggetti dei membri appunto che fanno parte della comunità energetica mi consente appunto di progettare di fatto che appunto è meglio strutturare l'H.C.R e poi sicuramente quindi avere una raccolta di dati concreti dell'H.C.R quali sono i consumi dei soggetti appunto perché io devo comunque sempre partire da un'audit quindi da una diagnosi appunto del fabbisogno appunto energetico del mio appunto territorio quindi senza questi dati è difficile poter poi pensare in concreto a mettere in campo appunto una C.R funzionale e poi sicuramente appunto passiamo appunto all'aspetto giuridico qual è la forma appunto giuridica più adatta per la costituzione della appunto C.R perché poi appunto il legislatore su questo l'articolo 31 comma primo del decreto legislativo 199 del 2021 ci ha dato una definizione che è presa direttamente appunto dalla direttiva appunto Redda 2 semplicemente mentre la Redda 2 parlava di soggetto giuridico aggiungendo che deve essere un soggetto giuridico autonoma l'autonomia che appunto è non è non è altro che appunto che di fatto la capacità di essere quindi titolare di situazioni appunto soggettive che significa di poter appunto sottoscrivere autonomamente appunto i contratti quindi è un soggetto che si distingue rispetto appunto ai 6 membri ma che non si identifica in essi ma l'autonomia appunto non necessariamente comporta anche l'autonomia di carattere appunto patrimoniale cioè la la segregazione quindi del patrimonio della comunità energetica ma adesso questo vediamo che cosa appunto comporta e quindi appunto il fatto di aversi anche delle appunto possibili iniziali appunto strutture di comunità energetiche che abbiano appunto però un'autonomia patrimoniale che non perfetta che quindi impicchino anche una responsabilità dei propri soci appunto membri partecipanti altra appunto fondamentale elemento che di definizione appunto della appunto CER è il fatto che l'esercizio del potere di controllo interno appunto della CER deve essere appunto in capo alle persone fisiche le piccole e medie imprese enti territoriali agli enti di formazione di ricerca anche gli enti religiosi possono costituire per prendere controllo se interrompo c'è qualcuno con un audio acceso per cortesia se può spegnerlo grazie ok grazie le le autorità locali quindi come comunque c'è un ampio appunto numero di soggetti sicuramente appunto il controllo non potrà essere appunto dato a soggetti che hanno uno scopo appunto lucrativo quindi se abbiamo appunto una appunto società che appunto ci realizza appunto l'impianto ma lo fa appunto per appunto lavoro produce appunto è nel campo appunto proprio della produzione appunto energetica e il suo fine appunto lucrativo rende appunto rende esclusa dalla possibilità di appunto far parte e avere appunto in mano le redini appunto della nostra comunità appunto energetica rinnovabile quindi abbiamo un'altra caratteristica quindi fondamentale quindi quello che vi ho detto quindi il fatto che la partecipazione quindi vedete non può costituire attività commerciale industriale principale che appunto proprio perché è in contrasto con l'obiettivo che abbiamo detto non essere quello del appunto lucro soggettivo della comunità energetica ma soprattutto altro importantissimo importantissima caratteristica della CER è il fatto di dover essere aperta ai consumatori soprattutto il visto della sua fine che appunto solidaristico come vi anticipavo a quelli che appunto a basso reddito o che appunto vulnerabili cioè un aiuto alla collettività di fatto che appunto questa apertura appunto comporta che il membro consumatore appunto della CER e adesso lo vediamo un attimino rimane appunto libero di entrare appunto e di uscire appunto dalla comunità energetica e mantiene appunto la sua caratterizzazione di essere un cliente del mercato appunto energetico ora vediamo però ve l'ho già accennato perché è fondamentale è uno degli aspetti essenziali che devono essere inclusi appunto nella disciplina giuridica nello statuto appunto della CER e poi anche nell'eventuale regolamento in cui si definiscono i criteri appunto poi per la entrata e l'uscita appunto dei clienti membri CER quindi il fatto di avere appunto lo scopo lo scopo di lucro che non può essere quindi uno scopo principale già ci orienta a dire che non potranno essere quindi utilizzati per la costituzione appunto della CER tutte quelle configurazioni quei modelli appunto giuridici delle società evidentemente di persone capitali che hanno proprio appunto come loro scopo quindi non possono essere istituite se non hanno lo scopo di lucro perché così sono definite dal nostro legislatore quindi ne vengono esclusa quindi tutte quelle che sono le configurazioni delle società di capitali del S.P.A. S.R.L. che appunto sono contenute nel nostro codice civile e sicuramente appunto invece si apre il campo appunto si apre la strada alla valutazione di altre appunto forme che di per sé che proprio per la loro natura per la natura appunto che gli è stata segnata dal nostro legislatore non hanno appunto uno scopo lucrativo tra queste le associazioni che possono essere riconosciute o non riconosciute le fondazioni di partecipazione le società semplici che hanno però la caratteristica di essere benefit e appunto i consorzi le imprese sociali che sono contenute e declinate appunto nel codice del terzo settore in decreto legislativo 112 del 2017 in realtà la definizione appunto di impresa sociale non è un'impresa autonoma cioè non c'è la specie di impresa sociale ma è la caratterizzazione cioè dell'impresa appunto quindi anche nelle altre appunto forme che abbia appunto quindi che assuma delle finalità che l'articolo 2 del codice del terzo settore ci dice essere civiche solidaristiche e di utilità sociale quindi si sposa perfettamente questo tipo di qualificazione con gli obiettivi che devono essere perseguite dalla CER le cooperative che hanno appunto una mutualità appunto prevalente e poi a me piace molto ad esempio anche l'idea delle cooperative di comunità cioè quelle tipologie di cooperative che sono state sempre incluse nel codice del terzo settore e che hanno proprio appunto un obiettivo di ampio respiro cioè di valorizzazione del appunto territorio in cui sorgono già la delibera rera del 2020 quindi i primi provvedimenti no sulla sperimentali appunto delle comunità energetiche ci dava appunto come esempio la forma giuridica dell'associazione ed è questa stata la prima forma utilizzata dell'ente del terzo settore quindi come richiamo quello che vi ho appena detto la cooperativa la cooperativa appunto benefit il consorzio l'organizzazione senza scopo di lucro e attenzione che abbiamo appunto una fattispiecie quindi che è stata inserita qua forse un po' appunto timidamente ma che ci apre appunto la strada a tutte quelle forme di collaborazione tra pubblico e privato che è proprio la forma del appunto parternariato dunque abbiamo una condivisione importante appunto di obiettivi nelle forme quindi parternariali che vedono coinvolte soprattutto anzi principalmente appunto le pubbliche amministrazioni la proprio brevemente perché poi il tempo se no stringe e sottraggo anche agli altri colleghi relatori la cerra che appunto le prime cerra sono state configurate vengono ancora configurate in forma di associazione sicuramente la forma appunto più semplice l'associazione può avere una personalità appunto giuridica e quindi in questo caso appunto si costituisce con atto pubblico oppure rimanere una appunto associazione appunto semplice quindi non aver acquisito la personalità appunto giuridica ovviamente appunto la forma diciamo così più evoluta più consigliata appunto è quella della cerco in personalità appunto giuridica che abbia appunto quindi la sua partita IVA che appunto che gestisca che poi anche tutta l'iter al GSE quindi con tutte le carte perché poi diciamo così c'è una organizzazione diciamo più semplice nell'associazione non appunto riconosciuta che non consiglio di fatto appunto l'associazione può anche essere qualificata come ente del terzo settore altra forma quindi che abbiamo detto la fondazione di partecipazione nella società semplice e che appunto l'impresa appunto Benefit ma adesso io faccio solo un panorama veloce di quelle che ritengo essere al di là di tutto le forme più utilizzabili quella più utilizzata quella dell'associazione poi arrivo a dire appunto quella che io privilegierei sicuramente il appunto consorzio la società consortile è un'altra appunto forma organizzativa appunto ipotizzabile ma appunto che ha dato luogo quindi anche a delle perplessità perché perché la comunità energetica deve lasciare spazio appunto ad una entrata e uscita appunto di soggetti privati di membri appunto privati mentre il consorzio appunto di per sé quindi come contratto è un'organizzazione che vede tra i consorziati appunto dei soggetti appunto imprenditori che può anche essere quindi partecipata appunto di fatto dai soggetti pubblici e quindi appunto che diciamo ha dato luogo che appunto ha delle perplessità sull'utilizzo appunto effettivo di questa appunto configurazione in dottrina si è comunque superato diciamo così questa criticità e si è ritenuto che si possa comunque anche far strada al consorzio misto che appunto in sé abbia associazioni appunto di categoria o soggetti privati purché abbiano un ruolo quindi marginale strumentale e quindi anche un ruolo che di meri consumatori della CER sicuramente è quello che io vedo appunto come diciamo il futuro modello appunto più utilizzabile o per me appunto maggiormente utilizzabile è il appunto modello appunto della cooperativa la cooperativa di fatto capitale variabile con scopo motoristico e si presta proprio per le sue caratteristiche essenzialmente appunto di diversificazione anche del appunto vuoto quindi all'interno quindi di effettivo controllo e da quelli che sono i soggetti che abbiamo detto prima rispetto appunto ai miei clienti appunto o membri appunto privati della comunità energetica si presta proprio ad adattarsi alle finalità quindi della appunto della CER e soprattutto appunto è un modello che essendo possibile costituire nella forma della responsabilità limitata consente anche di segregare quindi creare appunto quell'autonomia patrimoniale che amplia appunto di fatto alla partecipazione più sicura diciamo da così degli enti appunto locali questo perché ve lo dico perché nella partecipazione dell'ente locale ad una associazione crea appunto di fatto dei contrasti delle perplessità con quello che è tutto l'assetto delle partecipazioni che appunto societarie quindi della partecipazione pubblica appunto alle società quindi dei terzi soggetti che è appunto contenuto nel test unico del 175 del 2016 di fatto la partecipazione appunto degli enti locali che appunto all'interno delle società è limitata perché perché comunque è anche soggetta ad un controllo l'articolo 5 del test unico ci dice se siamo enti locali vogliamo acquisire ampliare partecipazioni societarie che appunto che dobbiamo mandare appunto la relazione alla Corte dei Conti che deve controllare appunto che la partecipazione a un organismo sia coerente con le finalità istituzionali che appunto le ente certamente la partecipazione alla CERAC appunto lo è ma la partecipazione ad un'associazione non riconosciuta dà luogo a delle problematiche in termini di estensione della responsabilità per l'amministratore appunto locale che di fatto va ad impegnare ok oltre appunto quello che dovrebbe anche appunto a livello patrimoniale l'ente stesso per quello che dico che questo modulo di fatto appunto dovrebbe essere diciamo abbandonato quando parliamo delle appunto CER miste verso appunto dei modelli questo ovviamente la mia opinione appunto personale professionale che siano appunto un attimino più coerenti con tutto quello che è l'assetto normativo che poi gira intorno alla creazione appunto della CER soprattutto se parliamo appunto di CER mista dobbiamo tenere presente quando andiamo poi a strutturare la nostra comunità energetica dei paletti che tutto l'assetto delle norme delle disposizioni tecniche ci viene appunto a dare innanzitutto il fatto che la CER si fonda proprio sull'autoconsumo e che appunto dà la possibilità soltanto di accumulare e vendere appunto l'energia in eccesso quella che non è stata condivisa con i membri della appunto comunità l'obbico peraltro che appunto in capo ai partecipanti di continuare ad utilizzare la rete di distribuzione e di fatto il fatto che il membro appunto della comunità energetica rimane un cliente a tutti gli effetti di qualsiasi distributore energetico conosciuto cioè non dobbiamo cambiare niente nella partecipazione poi alla CER e tutto questo deve essere regolamentato quando vado a strutturare giuridicamente la comunità energetica e poi che appunto ovviamente i limiti che abbiamo visto prima della appunto cabina primaria attenzione che questo lo possiamo inserire nei nostri appunto statuti il fatto di essere CER non comporta che non possiamo appunto anche fare altre cose se non diciamo produrre l'energia appunto che viene consumata appunto dai nostri appunto membri possiamo appunto inserire che l'obiettivo quindi della appunto società della società CER la cooperativa CER insomma quello che andremo appunto a declinare è anche appunto quello di promuovere interventi di domotica ma anche quindi fornire appunto quelli che sono stati definiti nell'ambito del decreto legislativo 199 del appunto 2021 come insieme di servizi ancellari appunto alla CER cioè ad esempio appunto i servizi di ricarica dei veicoli elettrici quindi anche degli interventi sul nostro appunto territorio che vengono a integrare di fatto appunto anche il concetto della città intelligente della appunto smart city quindi comunque tutto poi si lega appunto proprio per il raggiungimento di obiettivi molto più ambiziosi di crescita quindi nei futuri vi ho detto prima vi ho anticipato i soggetti che ruotano intorno alla CER sono comunque diversi abbiamo sicuramente quindi i membri appunto della CER che mantengono in realtà la qualifica di cliente finale perché possono scegliere liberamente sul mercato il appunto proprio la bolletta arriva comunque dal fornitore appunto dell'energia ma appunto pur facendo parte della CER e quindi vengono contabilizzati comunque i loro consumi per capire effettivamente quale quota di energia prodotta dalla CER sia destinata appunto poi all'incentivo e quindi hanno diritto appunto ovviamente di ricordate la comunità energetica è una comunità aperta di entrare appunto e di uscire dalla comunità energetica attraverso delle clausole appunto di recesso senza oneri appunto aggiuntivi questa è un'altra cosa molto importante se noi mettiamo che la causa di recesso può essere appunto con un onere eccessivo ovviamente stiamo impedendo di esercitare questo diritto liberamente quindi anche questo va comunque regolamentato altra importante figura che è fondamentale appunto nell'attivazione della nostra CER è la figura del referente il referente della CER appunto è il soggetto che di fatto si interfaccia con il GSE presentando quindi la istanza con tutti i suoi documenti che GSE va appunto a richiedere per ottenere l'accreditamento di fatto della nostra comunità energetica quindi indicandone appunto tutte le caratteristiche poi gestendo di fatto quelli che sono appunto gli incentivi e meccanismo di distribuzione che può essere appunto di fatto un il referente appunto della CER il TIAD che appunto ci indicava che appunto il ci indica in realtà che il referente della CER è la medesima comunità però ci si è già resi conto delle difficoltà di dire ma come faccio a gestire anche tutto questo lavoro complesso forse ho bisogno di un terzo che appunto che mi possa aiutare che appunto proprio per cercare appunto di definire anche a livello burocratico ok e affrontare altrimenti poi rischiamo appunto di rimanere appunto di fare degli errori e quindi il GSE ha emanato come vi dicevo prima di poter emanare appunto quelle che saranno le regole operative appunto di fatto ulteriori per appunto tutto questo iter delle nuove comunità appunto energetiche ha avviato una consultazione appunto del mercato quindi una consultazione sulle preposte e le regole operative proprio per il mettere in atto questo accreditamento e tra queste appunto proprio quello di poter individuare appunto quale soggetto appunto referente con soggetto appunto terzo e rispetto appunto alla alla Cervet e quindi la proposta di fatto appunto è questa e gli spunti e quindi l'orientamento anche espresso appunto dal appunto GSE è quello di poter appunto delegare e quindi attraverso un vero e proprio appunto mandato quindi a un terzo con la rappresentanza che possa appunto di fatto fungere appunto da referente e questo potrebbe anche essere identificato nel soggetto quindi il gestore della appunto CER che può essere tranquillamente un soggetto terzo la CER quindi ha il potere appunto in sé con i suoi soci di controllare appunto tutto l'ITER ma delegherà poi un soggetto gestore che è un soggetto capace di appunto realizzare appunto di gestire anche tutte quelle che sono le piattaforme di contabilizzazione appunto dei flussi e mi vengono in mente appunto adesso comunque ovviamente il privilegio alle appunto società che operano già attraverso appunto i contratti di efficientamento appunto energetico ovvero appunto alle ESCO altra importante poi elemento attenzione che è oggetto di dubbio di consultazione che cosa significa che la singola comunità energetica deve avere la disponibilità appunto degli impianti cioè gli impianti appunto devono essere appunto a disposizione o di proprietà appunto della comunità energetica e che non significa quindi essere necessariamente quindi come comunità quindi esclusivamente appunto proprietari ma il GSE appunto già in questo documento di consultazione questa è proprio la slide della consultazione appunto pubblica ci dice appunto che è necessaria appunto quindi la dimostrazione della disponibilità appunto dell'impianto attraverso la produzione quantomeno appunto di un appunto contratto che abbia quantomeno una durata annuale ma io sinceramente appunto chiederei una maggiore appunto estensione e che appunto ci dice che di fatto l'impianto del terzo appunto di un terzo soggetto reso a disposizione quindi è utilizzabile ad appunto esclusivamente appunto da quella determinata comunità energetica quindi detto prima il ruolo fondamentale appunto degli enti locali e perché no di fatto appunto l'attivazione attraverso le forme del partenariato pubblico privato tenendo presente che già sono state avviate delle appunto proposte da parte degli operatori del appunto settore per la costituzione appunto delle cera a livello appunto dei singoli comuni le proposte ovviamente se arrivano appunto ci sono già state appunto delle procedure con il famoso project financing ovviamente oggi non possiamo approfondire vanno però appunto ben pagliate cioè non possiamo pensare come pubblica amministrazione di avere appunto la cera chiave in mano appunto senza avere appunto la capacità appunto effettiva di andare un po' appunto a perfezionare e inserire i nostri diciamo così nostre esigenze appunto nella configurazione altrimenti poi rischiamo che tutto questo sistema sia in qualche modo falsato e non ci porti beneficio reale gli incentivi che appunto sulle cera ma questo ve lo accenno soltanto sono stati diciamo la spinta alla creazione delle CER è stata ulteriormente data attraverso il decreto legge 13 2000 appunto 23 che era il appunto decreto relativo appunto all'attuazione ancora della PNRR proprio semplificando appunto la messa a disposizione quindi da parte degli enti locali appunto essenzialmente delle aree superfici un'estensione inoltre appunto ulteriore appunto per quanto concerne il settore agricolo di stato appunto accennato perché lì si supera addirittura il limite appunto del megawatt di potenza dell'appunto impianto e anche appunto quello della cabina appunto primaria quindi c'è proprio un appunto deroga in questo appunto settore e ovviamente appunto a cui fa da contraltare appunto il fatto che soggettivamente questo tipo appunto di CER possa essere controllato solo da quelle che sono le piccole e medie appunto imprese agricole anche tramite associazioni di categorie oppure delle cooperative agricole o appunto dei loro consorsi quindi ovviamente appunto c'è un ampliamento dal punto di vista del perimetro oggettivo ma una riduzione del perimetro soggettivo ma direi che appunto che è un contrattare assolutamente imprescindibile che cosa deve essere quindi sicuramente inserito quando andiamo a costituire una nostra CER nell'atto costitutivo e poi nell'oc punto statuto fondamentale l'obiettivo quindi quello che è stato declinato già nell'articolo 31 del decreto decisativo 199 del 2021 quindi l'oggetto sociale che andrà con suggerimento quindi quello che può fare quello che farà appunto da CER la regolamentazione quindi dei diritti appunto di ingresso magari differenziate a seconda che siano persone fisiche a seconda poi ovviamente appunto delle imprese quindi con le valutazioni conseguenti e soprattutto prevedere sempre e a chiare lettere che questo deve essere anche un dato che deve essere diffuso e chiarito appunto perché su questo soprattutto i consumatori gli utenti finali fanno appunto confusione pensano di doversi allacciare appunto con il proprio contatore all'impianto appunto della comunità energetica pensano di dover stipulare appunto un nuovo contratto appunto di fornitura ma in realtà appunto così non è e quindi appunto di essere ben chiari sul mantenimento che cosa significa essere clienti finali e che cosa significa poter liberamente far parte appunto e recedere poi anche dalla appunto comunità energetica altro aspetto importante soprattutto quando vado a costituire una appunto società mista pubblico o privata è stabilire quindi dei pesi diversi quindi dei voti e appunto dare appunto un'autonomia patrimoniale quindi nella scelta della appunto configurazione della giuridica della CER e anche appunto di prevedere ovviamente i diritti di voto che siano differenziati in base al peso alla partecipazione il prosumer che mette a disposizione i propri appunto impianti avrà appunto magari un peso appunto differente rispetto ai membri che poi appunto di fatto sono appunto solo consumatori importante poi accanto all'atto costitutivo allo statuto della CER sarà identificare con appunto il regolamento poi che cosa come appunto andiamo a ridistribuire di fatto gli incentivi appunto e i fondi che vengono destinati cioè ovviamente i fondi sono destinati appunto alla creazione della CER e quindi alla implementazione appunto dei nuovi impianti quindi fondo perduto ma poi che appunto potrebbe darsi che ci siano altri altri finanziamenti altri fondi che si vengono appunto ad aggiungere altre appunto iniziative oltre ovviamente all'incentivo per la quota dell'autoconsumo all'interno della comunità per cui si dovrà stabilire attraverso appunto il regolamento come ripartire appunto quindi tutto questo tenendo conto che non è che la società CER si fa gestire da un terzo e quindi non ha alcun costo non significa che debba avere appunto una organizzazione stabile o chissà quali costi di gestione di personale ma sicuramente un minimo appunto di costi gestionali dovrà essere sempre tenuto presente e quindi qui vi ho messo un esempio che appunto una quota maggiore nella valorizzazione della tarifa incentivante potrà essere riconosciuta sicuramente ai prosumer e di altra d'altra parte ovviamente secondo quote che possono essere stabilite in un modo che appunto è differente rispetto ad esempio che appunto alla proporzione rispetto che appunto all'energia giustamente che in base che appunto ha anche diciamo orari che appunto di consumo perché se io consumo e penso che appunto di consumare di notte quando appunto il mio impianto che è di produzione pressoché fermo a meno che non abbiamo un eolico e quindi con una zona particolarmente esposta dentro che quindi mi dà la possibilità di produrre anche di notte ma se io penso a una zona del nord e che appunto quindi con una scarsa esposizione che appunto una più limitata esposizione solare soprattutto di notte l'impianto che appunto non produce e quindi dando anche la possibilità di differenziare questi appunto aspetti oltre al fatto che poi avremo necessariamente appunto un contratto quindi che la Cerva appunto ha stipulare appunto di fatto con un soggetto che gestisce appunto tutto questo flusso appunto contabile che insomma consente poi il funzionamento reale della comunità energetica io interrompo la condivisione spero di essere magari grazie grazie mille perché oggi ci ha fornito veramente un supporto formativo molto importante grazie può essere utilizzato sia per le imprese che ovviamente per i comuni e per le associazioni e mi spiace che non vedo nessuna domanda diciamo per chi per chi vuole può ancora inserire nelle domande risposte qualche quesito e in attesa direi di passare la parola agli ospiti che abbiamo oggi con noi abbiamo con noi un rappresentante come dicevo prima della CIA di Iveria e il sindaco del comune di Villa Faraldi che ci faranno una testimonianza di quelle che sono state le attività che hanno svolto sul nostro territorio allora passo la parola al dottor Marino Bertone rappresentante della CIA che ci illustrerà lo stato dell'arte e dei servizi disponibili per la costituzione di CER ubicate nel territorio del comune di Italia sì grazie spero che mi sentite perfettamente molto bene grazie per l'invito e grazie agli organizzatori e anche alla relatrice e alle relatrici che mi hanno preceduto e che hanno illustrato in maniera completa il quadro che come avete capito si presenta complesso allora CIA agricoltori italiani già dal 2014 ha costituito una ESCO una Energy Service Company cioè ha costituito una società di proprietà dell'associazione agricola che si occupa di tutte le tematiche delle fonti rinnovabili dell'efficienza energetica nel senso complessivo e accompagna le imprese diciamo in tutta questa complessa fase di gestione di queste varie opportunità che il sistema legislativo ci offre e quindi in questa fase abbiamo anche affrontato il tema delle comunità energetiche proprio in questi giorni in questi momenti in cui vi stiamo parlando si sta quasi per concludere il bando parco agrisolare quel bando del PNRR che finanzia in maniera molto sostanziosa la possibilità di installare pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali delle imprese agricole quindi insomma anche su questo abbiamo avuto un grosso impegno ma già in passato abbiamo lavorato moltissimo sui certificati bianchi sul conto energia abbiamo lavorato sul conto termico sono tutti gli incentivi che il sistema mette a disposizione e anche il GSE insomma ha attivato per arrivare specificatamente sulla questione noi abbiamo avuto diverse sollecitazioni da parte di imprese agricole che abitano in territori rurali per poter essere insomma accompagnati in un progetto di comunità energetica e quindi abbiamo avuto delle varie occasioni per approfondire una di queste riguarda i vostri territori in particolar modo il territorio di Taggia ma anche del contesto territoriale vicino come Canessa e praticamente noi abbiamo su richiesta di un agricoltore di questo territorio abbiamo provato a fare delle simulazioni queste simulazioni in sostanza avevano queste caratteristiche l'agricoltore aveva gli spazi naturalmente per poter fare impianti fotovoltaici ma ha provato a mettere insieme dei consumatori significativi tutti all'interno della cabina primaria del suo territorio di Taggia in questo caso io adesso naturalmente per questione di rispetto della privacy non posso dirvi i nomi ma sono stati coinvolti in questa ipotesi di CER dei supermercati cioè delle imprese che hanno consumi significativi sui mercati che hanno sigle molto famose che io non nominerò ma che hanno consumi significativi noi abbiamo raccolto le bollette i consumi annuali c'è un grosso sul mercato che consuma 2 milioni e mezzo di kilowattora all'anno un altro che ne consuma 335 mila ancora un altro 185 mila abbiamo anche convolto un ospedale che per una parte dei suoi consumi aveva la possibilità di mettere a disposizione 185 mila kilowatt e poi ancora un altro sul mercato a 176 mila kilowatt e anche addirittura un esercizio commerciale che ne aveva un po' meno complessivamente abbiamo messo assieme 3 milioni e 394 mila kilowatt l'obiettivo era di capire con questo tipo di consumi che dimensione avrebbe potuto avere l'impianto che il produttore agricolo poteva realizzare all'interno e sopra le proprie strutture per poter trovare questo giusto equilibrio giustamente è stato ricordato prima la fase fondamentale della comunità energetica è la fase progettuale quella è fondamentale c'è un equilibrio da capire qual è la quantità di energia che possiamo produrre e qual è la quantità di energia che la comunità energetica è in grado di condividere naturalmente come qualcuno ha già ripetuto molto bene dobbiamo sempre ricordarci che si tratta dell'energia condivisa cioè in quel momento noi abbiamo in quel momento a mezzogiorno i pannelli fotovoltaici che stanno producendo l'energia e in quel momento i consumatori che hanno aderito alla comunità energetica la stanno consumando cioè è una contemporaneità non possiamo fare diversamente se i nostri consumatori consumassero solo alla sera quando il sole è andato giù e quegli impianti non stanno funzionando non c'è una contemporaneità a meno che la comunità o i produttori non si siano dotati di sistemi di accumulo e quindi durante il giorno quando c'è il sole gli impianti producono energia la stoccano all'interno di pacchi batteria o sistemi di accumulo e quindi anche quando è andato giù il sole i soggetti consumatori della comunità energetica possono prelevare quell'energia e quindi in questo momento poter beneficiare del contributo tarifario quindi perché il tema è come si calcola quel contributo tarifario si calcola esclusivamente sull'energia prodotta e consumata just in time è mezzogiorno qualcuno sta buttando dentro in rete l'energia è mezzogiorno e qualcuno ha la lavatrice accesa o i frigoriferi dell'industria o del supermercato accesi che consumano virtualmente quell'energia perché virtualmente perché non c'è rame rame non è esattamente la stessa energia prodotta e consumata ma immessa nel sistema nel sistema della cabina primaria e su quella parte di energia prodotta e consumata contestualmente viene calcolato quel famoso contributo tarifario pertanto nel momento in cui ci apprestiamo a dimensionare la quantità di energia da produrre dobbiamo tener conto delle modalità di consumo qualcuno che mi ha preceduto ha fatto un ragionamento credo la prima relatrice che io condivido molto in questo ragionamento e cioè vedete la comunità energetica può anche influire sulle modalità di utilizzo dell'energia e cioè se quell'industria modifica i propri processi produttivi per consumare di più nel momento in cui gli impianti fotovoltaici stanno funzionando otteniamo una maggior quantità di contributo tarifario oppure si dice sempre che dobbiamo accendere lavatrici di sera no in questo caso possiamo accendere lavatrici e anche lavastoviglie a mezzogiorno perché è esattamente quello il momento in cui quell'impianto sta producendo e così facendo beneficiamo del contributo tarifario vedete cambiamento dei comportamenti da parte dei membri della comunità energetica ma possiamo aggiungere altre considerazioni normalmente gli allevatori che hanno allevamenti di bovini da latte fanno partire gli impianti di mongitura verso le 7 8 di sera se invece fanno parte della stessa comunità energetica alle 4 5 3 del pomeriggio quando in quel momento gli impianti stanno producendo ecco che il beneficio su quel consumo su quel contributo tarifario si scarica in questo caso e quindi si ha un vantaggio quindi la comunità energetica è una strategia anche per riorganizzare le proprie scelte di consumo energetico e focalizzando naturalmente e migliorando le performance degli impianti e questo è un altro elemento importante ribadisco però anche l'altro elemento che le comunità energetiche stesse possono dotarsi di sistemi di accumulo in modo tale da poter soddisfare l'esigenza dei consumatori anche quando l'impianto non funziona quindi è già togso il sole ma noi preleviamo quell'energia lì virtualmente e quindi il contributo tariffario se lo prendiamo anche se consumiamo alla sera questo è ciò che la comunità energetica mette in moto ritornando alla vicenda di Taggia noi in questo caso cosa abbiamo fatto abbiamo prima calcolato complessivamente i consumi di un gruppo di soggetti interessati e abbiamo visto che c'erano 3.394.000 kilowattora all'anno di consumo su quella base quindi cosa abbiamo fatto abbiamo provato a definire qual è come dire il valore di potenza dell'impianto sapendo bene che quell'impianto produce una quantità di energia ma non tutta quell'energia è sempre comunque autoconsumata dai consumatori della comunità perché non è detto che tutti in quel momento in cui l'impianto funziona stiano prelevando quindi abbiamo cercato di dimensionare per fare in maniera di essere in grado di mettere a disposizione dei consumatori almeno il 70% della produzione dell'impianto e in questo caso abbiamo dimensionato il possibile impianto in 1750 kilowatt di picco quindi un megawatt virgola 75 diciamo così in questo caso quindi avremo la possibilità di fornire al nostro platea di supermercati e insomma consumatori vari un milione oltre un milione e mezzo di kilowattora su questa base quindi abbiamo fatto i calcoli insomma quindi questa dimensione sarebbe quella ottimale affinché una buona quantità di energia possa essere messa a disposizione da parte del produttore che abbiamo individuato naturalmente tutta questa vicenda è rimasta in frigorifero come bene avete ricordato siamo tutti appesi a questo fatto che ancora ad oggi non abbiamo avuto l'approvazione da parte della commissione europea della proposta del provvedimento che il ministero della transizione esetica ha prodotto che peraltro il provvedimento che è annunciato di volta in volta doveva essere addirittura il primo ottobre oggi siamo già il 3 ma potrebbe essere che domani o entro qualche giorno esca il provvedimento noi oggi il provvedimento ancora non ce l'abbiamo che cosa comporta il fatto di non averlo che non siamo in grado di fare i calcoli cioè abbiamo il testo che è la proposta del ministero che dice che il contributo tariffario può arrivare fino a 110 120 euro a megavattora però sempre che la commissione europea approvi poi come avete capito in questo contributo tariffario che va distribuito fra i produttori e i consumatori come bene è stato ricordato è una scelta libera che fa l'organismo di controllo della comunità energetica che decide di dare che so io il 60% di questo contributo ai produttori perché devono anche ammortizzare i loro investimenti e magari il 40% ai produttori ai consumatori è una scelta libera potrebbe essere il contrario naturalmente su questa base uno fa i calcoli e dice bene io consumo 100.000 kilowattola all'anno con la comunità energetica ne posso in qualche modo riuscire a giustificare 70.000 su quei 70.000 mi viene una quota di quel contributo tariffario in che percentuale in la percentuale che la comunità energetica ha liberamente deciso di ripartire questo incentivo che arriva dallo Stato e quindi prima incognita bisogna capire la scelta che farà la comunità energetica ed è una scelta libera come è giusto che sia in secondo luogo dobbiamo capire anche che c'è una diversificazione di questa tariffa che viene diversificata in base alle potenze e c'è una quota fissa e una quota variabile non voglio scendere in meccani dettagli perché altrimenti perderei troppo tempo e vorrei essere molto più breve per lasciare spazio anche a quelli che mi dovranno intervenire dopo di me ma in buona sostanza anche questo è un elemento importante per cui se in questo momento dovessimo costruire un progetto economico che dice esattamente a quel supermercato di quella catena famosa quanto sarebbe il vantaggio che lui potrebbe portare a casa dall'adesione della comunità energetica oppure il signor Rossi o la signora Maria che consuma 8.000 kilowattori all'anno come potrebbe essere la media di una famiglia qual è il vantaggio nell'aderire della comunità energetica non siamo in grado di poterlo dire perché abbiamo ancora queste incognite ultime considerazioni le faccio su un elemento che l'avvocato Samantha Battiston ha fatto nelle sue quasi conclusioni quando ha ricordato che il legislatore ha introdotto con questo decreto lese numero 13 del 2023 poi riconvertito in legge una novità in sostanza ha sancito un principio le comunità energetiche rinnovabili rurali aggiungo io un'altra R in più perché perché l'avvocato vi ha detto che in questo caso quando cioè la comunità energetica ha un organo di controllo che potrebbe essere il consiglio direttivo dell'associazione a cui adegiscono produttori consumatori della comunità l'organo di controllo è partecipato in maggioranza da piccole e medie imprese agricole attenzione la piccola impresa agricola ha meno di 50 dipendenti e ha un fatturato fino a 10 milioni di euro quindi il 99% delle nostre imprese agricole ok quindi quando l'organo di controllo della CER è gestito da piccole e medie imprese agricole o da cooperative agricole dei loro consorzi o addirittura dalle loro associazioni di categoria vengono meno alcuni paletti che sono paletti importantissimi e cioè l'impianto che aderisce alla comunità è più di un megawatt due tre quattro cinque quindi possono aderire impianti maggiori quindi saltano quei paletti che valgono per tutti gli altri ma saltano solo per le comunità energetiche rurali e c'è un secondo elemento che salta è il vincolo della cabina primaria paradossalmente queste comunità energetiche possono essere fatte in tutta Italia cioè possono aderire un consumatore di Aosta e uno di Enna e di Caltanisetta e far parte della stessa medesima comunità energetica ora parliamoci chiaro questa è un'autentica bestemmia energetica cioè viene meno il principio per cui si costituisce la comunità energetica perché ha un senso la comunità energetica perché in quel territorio si spinge a produrre e consumare qual è il beneficio di produrre e consumare in quel territorio evitare lunghe catene di produzione e distribuzione centinaia e centinaia di chilometri di distanza fra il luogo della produzione dell'energia vicino al porto di Genova grandi impianti turbogas eccetera e poi innumerevoli reti di distribuzione di alta e media tensione che arrivano a casa della persona che abita a 500 400 chilometri di distanza dal luogo dove c'è la grande centrale di produzione invece se noi produciamo e consumiamo in quel territorio provate a immaginare quale minore dispersione siamo molto più efficienti produciamo 100 e riusciamo a consumare 99 perché abbiamo dentro la cabina dentro la cabina primaria un ambito territoriale molto più distretto ed è un vantaggio per tutti cioè tutto il sistema italiano organizzando e spingendo la produzione dentro al proprio territorio diventa un sistema più efficiente consumiamo meno energia fossile e consumiamo più energia rinnovabile dentro al territorio e poi se mi consentite è un grande processo di democrazia energetica cioè il proprio territorio viene coinvolto nella produzione e nel consumo dell'energia e quindi è un principio giusto questo emendamento che è passato per fare un piacere al sistema agricolo però scardina questo principio che io vi ho spiegato e cioè se salta il principio della cabina primaria è che un membro della comunità energetica costituito in questo modo dove la prevalenza dell'organismo di controllo è fatto da imprese agricole ma possono aderire singoli cittadini che abitano a Genova e a Caltanisetta se si scardina questo principio si perde la razio del significato della comunità energetica per cui non ne comprendiamo francamente la motivazione ed è una vicenda molto strana però così è al momento l'esilazione naturalmente tutti questi provvedimenti necessitano poi di provvedimenti attuativi che non conosciamo quindi non solo attendiamo l'approvazione da parte della Commissione Europea delle regole più precise ma poi probabilmente avremo bisogno di ulteriori provvedimenti che spiegano questa cosa ultima considerazione è questa il provvedimento della comunità energetica prevede un altro principio che il contributo tariffario che noi otteniamo per aver aderito alla comunità energetica quindi qual è uno dei vantaggi di natura concreta lo possiamo cumulare anche al fatto che per realizzare quell'impianto abbiamo ottenuto dei contributi ma non devono essere superiori al 40% di quel valore ad esempio sopra il mio tetto dell'impresa agricola allevamento serre quello che ho ho fatto un impianto fotovoltaico e ho ottenuto un contributo in conto capitale bene quel contributo in conto capitale non può essere superiore al 40% per poter mettere a disposizione quella quella energia alla comunità energetica e comunque verrà ridotto nella contributo tariffario di quella percentuale ho avuto un contributo del 30% il mio contributo tariffario venne ridotto e questo è un deterrente diciamo così anche perché recentemente in questo bando parchi agrisolari che propone che dà la possibilità agli agricoltori di installare il fotovoltaico sopra i propri epitetti ha un contributo in conto capitale dell'80% naturalmente in questo caso limitandosi all'autoconsumo ma c'è anche un contributo del 50% qualora si scelga l'opzione di non di non sottostare alla tutti dottor Bertone purtroppo noi abbiamo dei tempi siamo fuori di parecchio ho concluso mi deve scusare se l'ho perfetto ho concluso prima di passare comunque la parola al dottor Damonte ho visto che c'è una domanda fatta dal signore Enrico Esnardi che ha un saluto e voleva chiederle come pensate di misurare questi valori se pensate di organizzare il monitoraggio con dei contattori di produzione se riesce magari a rispondere velocemente è rivolta a me? Sì sì è rivolta a lei direttamente Allora ci sono due modalità una ci sono degli apparecchi che si installano sui pod sui contatori che trasmettono poi queste informazioni via telematica dove si riesca a monitorare continuamente i consumi e le produzioni in questo modo il soggetto che gestisce la comunità energetica è in grado di contabilizzare pressoché in continuo in ogni caso tutte queste informazioni poiché tutti i nostri contattori sono ormai bidirezionali tutte queste informazioni di quanto si mette in rete e quanto si preleva sono tutte informazioni che il sistema pubblico attraverso il GSE si è in grado e i soggetti gestori naturalmente si è in grado di poter contabilizzare però la cosa migliore è avere questi aggeggini che sono molto piccoli che si attaccano al contatore che è in grado di contabilizzare e perché in questo modo siamo in grado di capire quanta energia abbiamo prodotto e consumato contestualmente la ringrazio spero che sia sufficiente la risposta allora adesso passo la parola al dottore Stefano Damonte sindaco del comune di Villa Faraldi che ci fornirà una testimonianza per il Golfo di Aniese buongiorno a tutti mi sentite bene? perfetto ok allora io vado subito su diciamo quello che riguarda il nostro progetto non sto a perdermi parole perché è già stato detto veramente tante cose è stato abbastanza allineato abbastanza bene anche in quello che è il quadro della comunità energetica allora noi diciamo io come Villa Faraldi abbiamo fatto un accordo una convenzione tramite il comune di Viano San Piede e il comune dicevo per avviare la costituzione della comunità energetica stiamo lavorando nella comunità energetica da un anno abbiamo fatto diversi incontri sul territorio e l'aggregazione di questi tre comuni era cercare di mantenere diciamo l'aggregazione nel territorio su di 5 mila abitanti per poter accedere al decreto anche se poi dopo come è stato detto non è ancora uscito quindi non si sa bene quali saranno le regole se sono fermate se sono cambiate però è collegata alla gamina primaria di Cerro che ingloba tutto il Golfo dianese e gran parte del comune di Andorra quindi diciamo il territorio a cui si può aderire questa comunità energetica riguarda va da Andorra fino a tutto il Dianese parte che a Rentino e una parte di Castello rimangono fuori perché sono peccati all'altra gabbina primaria e all'altra parte su quello che abbiamo lavorato diciamo che ho lavorato in questo anno è organizzare la comunità energetica tramite una cooperativa di comunità nel senso che la comunità energetica in primis come obiettivo è produrre e condividere in una rete di consumatori di energia però è lasciare la porta aperta anche per quello che poi la comunità energetica ha la possibilità di fare che è comunque creare dei servizi comunque qualcosa di sociale sul territorio e base qua con le persone che abbiamo lavorato in questo progetto si è pensato che la comunità energetica e la cooperativa di comunità sia lo strumento ideale per rispondere a queste esigenze del territorio quindi dare anche delle risposte sociali alle persone che o comunque ai servizi che vengono richiesti dal territorio in base alle problematiche che sono presenti sul territorio diciamo lo statuto è pronto è stato visto rivisto più volte adesso andremo a cercare di concluderlo direi che a breve sarà proprio costituita la comunità energetica si è pensato nel gruppo di lavoro della comunità energetica di farla costituire dai cittadini da persone imprese in prima battuta e poi eventualmente il Comune entrare in un passo successivo subito dopo perché comunque la macchina del Comune come è stato già detto in precedenza è una macchina amministrativa lenta una macchina amministrativa che ha comunque gli adibimenti burocratici quindi partire con la comunità energetica dai cittadini è una cosa più semplice più snella in Comune poi posso entrare subito dopo anche se poi diciamo il progetto è stato lavorato da me in primis come sindaco così però lo porto avanti principalmente in questo momento come cittadino perché è il modo più semplice per avviare per far sì che la comunità energetica venga sia operativa nel più breve tempo possibile proprio perché come è stato detto più volte in questa giornata i decreti dovrebbero essere imminenti anche se erano imminenti l'uscita già forse un anno fa si parlava dovrebbe uscire in tavolino dell'anno dovrebbe uscire dall'inizio dell'anno siamo arrivati a ottobre e adesso speriamo che questa volta ci siamo quasi sembrerebbe che la comunità europea ci imponga di andare in una certa proiezione però non ci voglia andare perché non lo so di continuare a fare questo tiramolla non aiuta di sicuro raggiungere gli obiettivi di decentrare l'energia e produrla in loco che si sono posti invece si continua a rimandare e adesso siamo sempre in ritardo su questo argomento vorrei magari vedere quali sono i pro e i contro nel senso di quello che ho visto in questo anno di lavoro il contro e la normativa sicuramente non aiuta non dà chiarezza e non usce l'altro contro forse magari per adesso non abbiamo fatto questa diffusione non siamo stati in grado di magari di rendere pubblico completamente questo progetto ma abbiamo trovato difficoltà non tanto trovare il consumatore nel senso dell'adesione perché comunque se si organizzano bene i consumi e comunque anche aziende energivore tra supermercati ma anche comunque la stessa nel nostro territorio riviraco che comunque è buona acqua tutto il giorno è un consumatore energivore così si ha la possibilità di avere consumi anche dei cittadini di alberghi nel periodo estivo si ha anche picchi di consumi nel periodo estivo per avere quindi è giusto che ci sia anche il turismo collegato alla comunità energetica così ma è proprio trovare le aziende i cittadini le imprese il territorio stesso che realizza gli impianti perché comunque è facile trovare il consumo per lo meno è stato sembra facile trovare chi consuma ma è diventa più difficile trovare chi produce o comunque avere disponibilità impianti che facciano parte della comunità energetica le analisi fatte dai comuni dai territori comunali più o meno su questi tre comuni qua sono in grado di fare impianti per un mega avanti e mezzo penso massimo due se si vuole realizzare una comunità energetica nel Golfo di Nese si ha bisogno di nuove imprese nuove nuovi cittadini altri cittadini che siano che abbiano voglia di fare degli impianti sui propri tetti oppure dove si possono fare in base al territorio e alla tecnologia di impianti nel senso in questo modo le cose principali sono queste come ho detto io ho pensato di creare una cooperativa di comunità in modo che si ha la possibilità anche domani una volta che si è strutturata perché poi in prima battuta la cosa fondamentale è avviare la comunità energetica e farla funzionare dopodiché una volta che si è messa in moto la macchina secondo me la comunità energetica deve essere la comunità energetica a dare risposte al territorio sul sociale sul pareggiare le disuguaglianze nei cittadini che non sono in grado di magari problemi economici per quello che vuoi a riuscire ad arrivare magari a pagare la boletta o a fare altre cose oppure anche per dire non so a me cose che piacciono tanto sono l'assistenza domiciliare che comunque la comunità energetica in questo caso se ne potrebbe anche occupare nel senso sono disponibile anche per se sono aziende o cittadini del territorio del Golfo dionese a prendere contatto anche con loro per cercare di costruire questo percorso insieme con la CIA io sono in contatto con Stefano Daggerone che ho parlato parecchie volte così dovremmo penso a breve organizzare qualcosa comunque è un incontro anche con voi con voi di CIA per cercare di organizzare qualcosa insieme solo nel senso mi piacerebbe quando andiamo a costituire a breve la comunità energetica che ci sia un po' di rappresentanza di diverse figure sul territorio del Golfo dionese nel senso che comunque riuscire a coinvolgere più realtà in fase costitutiva in modo che poi dopo riusciamo a mettere in modo più snello più veloce in modo la macchina ad essere pronti poi quando ci saranno i vari bandi e le varie i vari contributi se ci saranno e in che modo ci saranno per dare poi risposta ai cittadini alle imprese in maniera veloce e poi dopo alla fine se sarà come si è disposto come si presuppone come sembrava così poi dopo sarà un sportello a tempo allora niente quello che sta dicendo è quello che diciamo dovrebbe essere il nostro lavoro noi adesso dobbiamo cercare di far arrivare il messaggio a tutte le imprese del territorio non solo col Fodeanese ma ovviamente provincia di Imperia Savona e la Spezia per incentivare queste queste nuove realtà e a questo come ho detto all'inizio dobbiamo cioè seguiranno degli incontri su varie tematiche proprio per aiutare soprattutto le imprese le associazioni i comuni e a seguito di tutti questo ciclo dobbiamo creare questo tavolo di lavoro territoriale al quale possono partecipare sia i comuni tipo il vostro come le associazioni cioè il nostro compito è un po' quello di riunire un po' tutti per cercare di di aiutare e avere una consultazione in questa materia il problema che è il nostro nemico è il tempo perché se realmente il primo di ottobre esce il decreto abbiamo 60 giorni purtroppo è il nemico di tutti io la ringrazio tanto anche a lei della testimonianza perché per noi sono comunque preziose per quello che abbiamo voluto al termine di questa giornata formativa di cominciare a inserire anche un po' aspetti reali del nostro territorio se non ci sono altri interventi programmatici dottoressa riscuolo mi prenderei l'iniziativa in quanto membro di giunta camerale se non c'è collegato il segretario generale o altri membri di giunta di ringraziare i relatori quindi per l'approfondimento che quindi si è fatto ulteriore peraltro le esperienze di cui si è diciamo parlato sono esperienze che conosco perché ad esempio quella che sta partendo nei comuni di Villa Caral di Cervo e di Anno è seguita da Simone Gaggino anche di Conf Cooperative che l'ha illustrata anche in un webinar in un consiglio del GAL Valli Savonesi quindi anche in quel contesto e anche quello strumento diciamo dei GAL che raggruppa i comuni dell'entroterra e le imprese ci si sta impegnando per la discussione delle informazioni corrette per stimolare diciamo tutti i soggetti che possono diciamo avere parte in queste vicende quindi semplicemente mi inserisco per salutare e ringraziare tutti i relatori anche lei la ringrazio che sta facendo carico di questo di questo ambito la ringrazio della testimonianza e niente per quanto riguarda tornando a noi domande risposte vedo solamente che ci chiedono se è disponibile la registrazione nei slide per la giornata di oggi le troverete a breve sul nostro sito camerale nella pagina dedicata e mi spiace che oggi all'avvocato Battiston non siano state fatte delle domande perché era un'occasione proprio quasi unica però è possibile sempre poter fare un incontro con l'avvocato il giorno 13 di ottobre giorno in cui avremo questo desk diciamo che sarà un incontro ristretto nel quale si potrà avere proprio un confronto diretto con l'avvocato Battiston per gli argomenti trattati oggi pertanto chiedo a tutti i partecipanti se fossero disponibili è possibile iscriversi sempre tramite la nostra pagina dedicata del sito camerale ricordo ancora un'ultima cosa che aveva già accennato il nostro segretario generale all'inizio dell'evento che abbiamo fatto una ricognizione sulla situazione della lecere su tutto il territorio di Riviera e di Liguria l'abbiamo indirizzato sia i comuni che le associazioni però purtroppo abbiamo avuto pochissime risposte per i comuni che sono ancora collegati per le associazioni ancora collegate che non avessero ancora fornito un riscontro chiediamo gentilmente di poterci compilare il form in quanto ci sono delle notizie che a noi servono proprio per pianificare le attività future a breve abbiamo anche i prossimi incontri stiamo avendo con Dinte che è la programmazione per il mese di novembre dovrebbero essere all'inizio e alla fine del mese comunque a breve li troverete anche queste date sul nostro sito camerale io ringrazio ancora tutti gli intervenuti di oggi in particolare appunto l'avvocato Battiston e la dottoressa Anna Maria Marconi che purtroppo ha dovuto sentarci sì prima e ovviamente tutti tutti i presenti non so se c'è qualcuno che vuole ancora dire qualche cosa abbiamo ancora qualche minuto no penso che non ci sia niente vediamo tra le domande risposte allora la data del desk sarà il 13 di di ottobre venerdì non questo quello successivo pertanto trovate tutte le indicazioni sulla pagina dedicata nel sito camerale ok grazie arrivederci a presto grazie a tutti e buon pomeriggio grazie allora ci ritroveremo al 13 sperando che di un'adesione sicuramente dopo un po' di recessione ci sarà anche l'adesione sicuramente speriamo arrivederci buona giornata grazie buon pomeriggio a tutti grazie buona giornata grazie grazie grazie